Grazie a tutti. Che ci hanno indicato i pompieri che ci siamo fermati proprio prima a trovare. Passaggio a Limello con il ferro. Bravi italiani, saltiamo in tutto. Eccolo che si ammazza. Ok. Perfetto. una mano e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.